Un riconoscimento che valorizza il senso più profondo di un servizio gratuito e dedicato agli ultimi. Suore Elvira Tutoro, 69 anni di Termoli, ha ricevuto dal presidente Sergio Mattarella l'onorificenza di commendatore al merito della Repubblica Italiana per il suo impegno in ambito internazionale nella difesa e recupero dei bambini e ragazzi di strada. Un gesto significativo compiuto nel corso di un'emozionante cerimonia tenuta al Quirinale in cui sono stati premiati 33 esempi civili. Umiltà, amore, una fede viva e concreta, quella della missionaria della carità della congregazione di Santa Giovanna Antida Tourè. Dopo aver svolto servizio in Italia per il recupero dei giovani dalle tossicodipendenze, la religiosa da più di 25 anni è impegnata in Africa. Dal 2001 opera Berberati nella Repubblica Centrafricana dove si dedica ai bambini e ragazzi di strada, orfani o allontanati dalle famiglie perché ritenuti portatori di maledizioni o ragazzi soldato salvati dalla schiavitù delle bande armate. In particolare Sorelvira attraverso la sua ONG Chizito ha avviato un centro culturale per insegnare proprio a questi bambini a leggere e scrivere e al contempo ha iniziato un progetto di formazione umana e spirituale per alcune giovani coppie affinché possano accogliere nella loro famiglia. Dal 2017 è residente nella Repubblica Centrafricana alla missione cattolica del Sacro Cuore, un paese povero dove ha ricevuto un'altra onorificenza nazionale conservando intatti i suoi valori e il suo rapporto con Termoli e la comunità molisana. I riconoscimenti sono il segno che si vuole dare al nostro paese non soltanto un'indicazione di comportamenti da apprezzare ma anche da conoscere perché i tanti comportamenti di voi vostri come tante altre persone suscitano nella società poi esempi e creano una sempre maggiore ondata di sostegno vicendevole e di solidarietà. Grazie per quanto avete fatto e auguri.